ma buongiorno allora ragazzi da un po che non pubblico ora che ci penso perciò mi è venuta voglia di pubblicare vi volevo dire che ritorno però porterò solo videogiochi stavolta anche perché sinceramente secondo me è meglio porterò brawl e volevo fare questo questo piccolo video che poi caricherò a breve dato che torna estate fare un sacco di video non non da solo ma di sicuro anche con riccardo appunto e niente spero che i miei video vi piaceranno di bruce stars buona giornata ciao